Grazie Presidente, innanzitutto io credo sia opportuno fare chiarezza perché in queste ore nelle commissioni e anche nei rapporti interpersonali abbiamo sentito e lo abbiamo sentito pure ieri in quest'aula dalle parole degli esponenti della maggioranza e del Presidente Conte dei reiterati appelli alla collaborazione e al senso di responsabilità. Ebbene, siccome noi non siamo abituati a farci accusare ingiustamente, io ci tengo a chiarire che fare appelli alla responsabilità in questo contesto, nel modo in cui avete operato, è un po', signor Presidente e caro Sottosegretario Misiani, è un po' come invitare a costruire assieme una casa il giorno prima dell'inaugurazione. Cioè voi a pochi minuti dall'approvazione in aula del documento della nota di aggiornamento al DEF, della NADEF, pretendereste senso di responsabilità dall'opposizione. Ecco, io pur facendo ricorso alla stima che ho per ciascuno di voi, ritengo che siamo davvero vicino al ridicolo, ovvero la presa in giro. Quindi se davvero la maggioranza intenderà collaborare con l'opposizione, non ce lo dica più ad un minuto dall'approvazione in aula, ma ce lo venga a dire con i tempi dovuti, in modo tale che davvero si possa costruire assieme un percorso nell'interesse del Paese. Ciò detto e chiarito, spero, mi sento in dovere di ringraziare i tecnici del Ministero dell'Economia e Finanze per l'opera di assemblamento che, come sempre, hanno fatto in modo magistrale. Meno naturalmente mi sento di ringraziare invece la maggioranza e il Governo per i contenuti che improntano questa nota di aggiornamento al DEF. Vedete, se io devo fare un commento sulla Nadef, il commento che mi sovviene lo posso anche prendere a prestito da un illustre economista e già membro dell'Ulivo, dal professor Nicola Rossi, che senza mezze parole ha detto nei giorni scorsi, questa è una Nadef preelettorale, cioè in sostanza dice quello che noi continuiamo a dire da mesi, che tutti i provvedimenti che state prendendo sono nella migliore delle ipotesi degli analgesici, ma non hanno davvero a cuore le sorti del Paese. Io sto citando, peraltro, non esponenti della mia cultura politica, sto citando esponenti sinceri ed intellettualmente corretti della vostra parte politica. Perché quando cito il professor Nicola Rossi credo di citare una persona che ha la competenza accanto alla visione politica. Allora perché dico che è una Nadef preelettorale? Lo dico perché basta guardare i numeri. Il risanamento dei conti pubblici, quando lo prevedete? Lo prevedete dalla fine della legislatura o meglio dall'anno successivo alla fine della legislatura. Quindi il problema lo buttate nelle mani di chi dovrà governare dopo di voi. Vi state semplicemente adoperando per creare misure di consenso e ho ragione quindi di temere che anche l'utilizzo dei fondi europei e poi mi soffermerò su questo. Lo farete con la stessa logica elettoralistica e a breve termine, con la differenza che se la politica a breve termine nel passato ha portato il Paese in queste condizioni, utilizzare una logica a breve termine con risorse straordinarie come saranno i 200 miliardi previsti nell'ambito degli aiuti europei o del debito europeo, certamente potrebbe portare invece il Paese alla definitiva o massacro. Non c'è un'assoluta discontinuità nella lettura della Nadef tra il presente e il futuro. In un momento eccezionale qual è questo? Era necessaria una netta discontinuità, una discontinuità nei numeri e una discontinuità nei progetti, perché se non si trasforma il Paese in un momento eccezionale come questo, quando è che lo vogliamo fare? Quindi accanto al tema del risanamento dei conti pubblici che caratterizzano questa manovra in senso elettorale, anche le fonti destano preoccupazione, perché le fonti sui quali si fonda una buona parte dell'impostazione contabile della Nadef sono i fondi del Recovery Fund. Leggiamo tutti i giorni, sui giornali anche oggi, che di fatto ancora tanto è a rischio nel Consiglio europeo che abbiamo in questi due giorni. Abbiamo sentito le parole del Premier polacco, abbiamo visto come non ci sia ancora condivisione. E quindi ecco un altro aspetto che rende, come ha detto una collega di Forza Italia, le fonti ballerine all'interno della Nadef. Cosa doveva invece prevedere a livello di contenuti e strategia il documento di programmazione economica? Doveva contenere, come peraltro anche la stessa maggioranza aveva fatto trappelare nei momenti antecedenti la pubblicazione della nota? Doveva basarsi sulla riforma fiscale. Ormai sono mesi che si parla di riforma fiscale. Allora io credo che anche su questo si debba un attimo ragionare. Possiamo vedere come anche qui tutta la stampa specializzata, non certo i giornali di propaganda di una parte o dell'altra, ma ad esempio lo stesso Sole 24 ore, caratterizzano in modo chiaro che nella Nadef, al di là di vuote parole, non c'è nulla che rispecchia la riforma fiscale. Come non c'è nulla, e lo abbiamo visto ieri, nel piano di risanamento di resilienza con l'utilizzo dei fondi europei. Non c'è nulla, se non qualche breve riferimento peraltro a concetti che deprimono il mondo dell'impresa. Perché, e lo ribadisco, nel piano di resilienza, come lo vogliamo chiamare, si parla unicamente di cuneo fiscale sul lavoro dipendente, cioè per questa maggioranza la ripresa del Paese, la ripresa degli investimenti, la crescita del PIL si attuerà solamente con la riduzione del cuneo fiscale. Come peraltro è in coerenza con l'ideologia politica che caratterizza questa maggioranza. E allora quando leggo il Ministro Gualtieri, che ribadisce anche oggi sul quotidiano Italia Oggi, che la prospettiva è quella fondamentale di ridurre il carico fiscale sui redditi bassi, io vorrei ricordare al Ministro Gualtieri che un italiano su quattro non paga imposte, che il 41% degli dichiaranti pagano oltre il 90% dell'IRPEF. In sostanza vorrei dire che dal combinato disposto degli 80 euro e poi dei 100 euro, oggi di fatto le imposte pagate da coloro che arrivano alla soglia dei 40.000 euro sono pressoché zero. Quindi al di là del populismo e della demagogia, dobbiamo invece dire un'altra cosa, che la ripresa del Paese e l'utilizzo della leva fiscale andrà fatto in una direzione completamente diversa, nella direzione dell'impresa, delle aziende. Noi dobbiamo riportare capitali nelle imprese, dobbiamo rendere conveniente agli stranieri investire nel nostro Paese, ma anche agli italiani stessi. E quindi dobbiamo incentivare l'impresa con la leva fiscale, dobbiamo riportare ricchezza, altro che le misure populiste. E mi dispiace dovermi riferire al collega Monti che nel 2012, 2011, 2012, 2013 hanno semplicemente voluto dare all'impasto al Paese misure di equità, tasse sui yacht, tasse sui superbolli. Dobbiamo in sostanza punire i ricchi perché così ci laviamo la coscienza. Noi dobbiamo rendere questo Paese appetibile per la ricchezza, dobbiamo rendere questo Paese un punto di riferimento per le imprese. Di tutto ciò, nelle parole di Gualtieri e nella Nadef non c'è proprio nulla nella perfetta e coerente, peraltro, logica della sinistra italiana. E quindi vado a concludere, Presidente, facendo riferimento a quella revisione della spesa pubblica, a quella ristrutturazione della pubblica amministrazione che tutti a parole indichiamo come un altro dei capisaldi che servirebbero alla ripresa del Paese. Ma allora perché nella Nadef non è riportato alcunché, non sono riportati i costi sociali di una ristrutturazione della pubblica amministrazione? Perché non ve lo potete permettere? Perché sapete che guardate solamente alle prossime elezioni politiche, dove già saprete che gli italiani vi daranno una severa valutazione e certamente cercherete un impatto il meno duro possibile. E concludo, mi conceda ancora qualche secondo, Presidente, concludo con il tema del credito. Nella scorsa legislatura, per salvare le banche, avete distrutto il credito, avrete distrutto il credito di territorio, le banche popolari, le casse rurali. E oggi tutti, anche i presidenti di quella cassa centrale banche che avete provveduto a costruire, dicono che non si può andare avanti così, che loro non sono più in grado di fare credito le PMI. Nei territori gli sportelli stanno chiudendo, è l'Unione dei Comuni Montani che fa un grido di dolore in questa direzione. E voi cosa fate? Cosa prevedete per la controriforma del credito, per ridare fiato al credito delle nostre banche? Non prevedete un bel niente. E così oggi ci troviamo un sistema bancario la cui attività principale è l'investimento, sono le attività assicurative, non il credito a quell'impresa che deve fare ripartire il PIL. Quindi, dieci secondi Presidente, per concludere. Concludo dicendo che questa Nadef, al di là di belle parole, è proprio coerente con quanto detto dal vostro economista e parlamentare dell'Ulivo, il professor Rossi. È una Nadef preelettorale che, come tutti i decreti Covid, purtroppo non farà niente di buono per il nostro Paese. Grazie. Grazie. Grazie.